L'Atletico Caltanissetta si prepara all'esordio in prima categoria, c'è subito la partita con il Niscemi e poi il derby con il Gela Fuoricasa, il Vincenzo Presti. Ma già il derby viene domenica stesso perché il Niscemi è una retrocessa, giochiamo con una squadra che ha giocato in promozione, però noi ci stiamo attrezzando per fare bella figura, perché non ci dimentichiamo che ora facciamo parte di una squadra del capoluogo. Ci dobbiamo organizzare come ci stiamo organizzando, ci sono facce nuove, ragazzi che abbiamo preso in questa settimana dalla Sangataldese, che sono veramente interessanti, tra cui Pastorello, un attaccante che veramente farà parlare di sé. Poi abbiamo un altro Mossuto, un Nisseno che finalmente può dare la sua disponibilità, ci sono altri giovani che sono molto inseriti in questa squadra, cerchiamo di fare del nostro meglio, però già da domenica si farà sul serio e pensiamo solamente a fare bella figura. Altri nomi? Altri nomi sono ingantiere, non li voglio dire perché la società si sta dando da fare per trattative un pochettino riservate, perché lo sapete voi come nascono le cose, appena si parla di un giocatore già subito le altre squadre vengono fuori per la stessa situazione. Cioè evitiamo perché noi arrivati a un certo punto non ci possiamo lamentare della squadra che abbiamo, cerchiamo di migliorare giorno in giorno facendo dei sacrifici, perché lì sotto sono sacrifici enormi, però la dirigenza si sta dimostrando veramente all'altezza della situazione. Cerchiamo di fare del nostro meglio e dare una risposta alla città, perché ora rappresentiamo la prima squadra. Cerchiamo di migliorare in tutti i sensi e vediamo quello che c'è da fare. Un appello al pubblico? Un appello al pubblico è di starci vicino, di fare per la squadra, perché non ci dobbiamo dimenticare che ora l'Arcetico Caltenissetta rappresenta la squadra della città, perciò vado cercando un pochettino di entusiasmo dalla parte dei tifosi, che ci stiano vicino a incoraggiarci. Non ci dimentichiamo che abbiamo la seconda partita, una squadra come il Gela, calcio, che rappresenta per tutti noi una squadra che può andare subito in serie superiore, però noi ce la giochiamo, perché io ho molti giocatori motivati e cerchiamo di fare una bella figura. Quanto è importante giocare al Palmintelli? Per me è molto importante perché rappresenta la storia, perché io ci ho giocato. Lo possono capire gente che hanno giocato lì dentro e sapere che cosa rappresenta quel campo con tutte quelle persone, 3.000 spettatori a incoraggiare la squadra. Cioè, è un entusiasmo che a raccontarlo, diciamo, a me mi fa sempre i brividi nella pelle, però è veramente una cosa positiva e mi auguro che i giocatori miei prendano questa iniziativa a sentire che cosa significa giocare lì dentro.